Buonasera a tutti, io sono docente all'Università di Genova, come vedete dalla prima slide. Mi occupo prevalentemente di geologia strutturale, fra i corsi di cui sono responsabile c'è anche geologia degli idrocarburi, ho competenze in questo campo perché ho lavorato qualche anno prima di entrare all'Università nel campo dell'esplorazione petrolifera. Cominciamo con un colpo di scena, trivellazioni e triv sono termini che non vengono usati, non li usa nessuno, fra gli addetti ai lavori si parla di perforazione e impianti di perforazione, quindi no trivelle ma rig in inglese o impianti di perforazione che sono poi questi, li avrete visti in tv, su internet, immagini così, ne cercano quante se ne vuole. Ho preparato una presentazione molto sintetica in cui parlo in maniera molto compressa, molto compatta di perforazione e poi della fase di sfruttamento dei giacimenti, in realtà poi il quesito riferendario non è particolarmente rivolto al problema della perforazione ma forse un minimo è utile per sapere di che cosa si parla. Allora come avviene la perforazione in maniera ultra semplificata? Beh avviene con una batteria di perforazione qua stilizzata non in scala naturalmente, questa può essere lunga alcune migliaia di metri ad esempio, una batteria di perforazione in fondo alla quale è avvitato uno scalpello, bit in inglese, un utensile che è pensato in modo da triturare completamente la roccia. Nella geologia del petrolio non si fanno carote, non si prendono dei campioni cilindrici di roccia se non in casi speciali, la roccia viene triturata completamente, è una perforazione a umido che avviene in presenza di fango di perforazione che viene iniettato all'interno delle asse di perforazione che sono cave, il percorso del fango lo vedete qua evidenziato dalle frecce, il fango scende nelle asse di perforazione, è pompato a pressione, esce da appositi feritoie che sono qua nello scalpello e risale nell'annulus che vedete è quella piccola intercapedine che si viene a creare fra le asse di perforazione e le pareti rocciose appena perforate. Il fango di perforazione ha diverse funzioni, innanzitutto porta via il materiale appena perforato, appena triturato, i frammenti di roccia che sono dei frammenti di ordine del millimetro che se no si accumulerebbero qua e molto presto farebbero impastare tutto quanto e renderebbero la perforazione impossibile. Il fango raffredda anche tutto quanto perché ovviamente si sviluppa calore, il fango esercita anche una spinta idrostatica, una controspinta rispetto ai fluidi di formazione che se no entrerebbero in pozzo. Ok quindi il fango viene pompato dentro, fa questo percorso esce dallo scalpello, risale nell'annulus fino in superficie dove viene intercettato, viene fatto passare sopra un grosso colino, una specie di vaglio vibrante che separa la parte liquida dalla parte solida, cioè dei frammenti di roccia. I frammenti di roccia vengono poi presi e studiati per capire che rocce si stanno attraversando, mentre la parte fluida viene ricondizionata, quindi vengono rimessi eventualmente i chimici che mancano oppure vengono ristarate le caratteristiche fisiche che vogliamo e poi viene rimesso dentro a circuito chiuso. Naturalmente man mano che ci si approfondisce il volume del foro aumenta e quindi ogni tanto ci sarà bisogno di aggiungere un altro po' di fango. Il tutto è tenuto in rotazione attraverso l'asta quadra, vedete qui c'è questo segno verticale, vuol fare intendere che quest'asta, la prima, la più superficiale, la Kelly, non è rotonda in sezione ma si chiama asta quadra in realtà esagonale, ma si chiama comunque asta quadra e l'asta quadra viene impegnata in una femmina rotante, la tavola rotary ed essendo la Kelly solidale con tutte le altre aste, il risultato è che tutta la batteria viene mantenuta in rotazione. Quindi la prima asta, la più superficiale, la Kelly, un certo numero di aste, qui queste cesure qua che vedete in questo punto e in questo punto vogliono suggerire che il disegno non è in scala e fra la Kelly e lo scalpello ci possono essere migliaia di metri, tanto per avere un'idea, mi sembra che nelle perforazioni petrolifere il record si aggira intorno agli 11.000 metri, 10.000, 11.000 metri. Pozzi intorno a 5.000-6.000 metri sono assolutamente di routine, pozzi oltre i 7.000 metri diventano pozzi di un impegno tecnico abbastanza pesante. Ok, il tutto viene mantenuto in rotazione con l'immissione di fango come abbiamo visto. Tanto per avere un'idea di come sono fatti questi oggetti, queste sono le aste di perforazione vicino a un impianto, il cappellotto rosso che vedete ha la funzione di proteggere la filettatura che è conica e qui le vedete stoccate in torre pronte per essere utilizzate, di solito a tre a tre, queste qua sono tre aste e in gergo tre singoli si dice che sono una lunghezza. In quest'altra diapositiva qualche scalpello, eccoli qua, diversi diametri perché si inizia con diametri grossi e poi dopo aver perforato una certa quantità per ragioni sia idrauliche che meccaniche è necessario scendere un rivestimento e quindi si continua poi con una perdita di diametro e quindi uno scalpello di diametro più piccolo, questo è il motivo per cui vedete alcuni diametri diversi e poi vedete anche tipi diversi, anche a un profano è chiarissimo che questo scalpello qua ad esempio è diverso da questo, questo è uno scalpello a denti, vedete questi risalti qua molto evidenti, invece questi scalpelli ma anche questo hanno invece degli inserti, si chiamano scalpelli a inserti e dipende dalla formazione della roccia che è andata a perforare, se è più coesiva o meno coesiva, più dura o meno dura, se sono calcare, arenarie, sabbie eccetera eccetera, gli scalpelli a denti ad esempio vanno bene per formazioni non troppo coerenti, formazioni piuttosto soffici, mentre gli scalpelli inserti vanno bene per formazioni un po' più meccanicamente un po' più resistenti. Ok, questi sono i principi semplicissimi, compattissimi della perforazione, vediamo che cosa succede a mare, quello che vi ho detto vale a terra e moltissime cose valgono anche a mare, ma in qualche caso ci sono delle differenze, vediamo innanzitutto che tipi di impianto si possono usare offshore, dipende sostanzialmente dalla profondità dell'acqua, se la profondità dell'acqua non è eccessiva, possono fare delle piattaforme fisse, quindi con un'incastellatura di tubi metallici che va a costruirsi sul fondo, molto semplicemente. Da queste piattaforme qua, fisse, di solito si spara un grappolo di pozzi, perché? Perché la logistica è più complicata a mare, ovviamente, allora si tende a concentrare tutta la logistica in una sola piattaforma, e dalla piattaforma si spara un grappolo, un cluster, si dice in gergo, di pozzi deviati, fare un pozzo verticale è la cosa più ovvia, e spesso accade così, ma si possono fare anche delle deviazioni in modo da esplorare un volume maggiore di sottosuolo da un unico punto fisso, che è la piattaforma fissa. In questo caso, nel caso della piattaforma fissa, la perforazione avviene esattamente nella stessa maniera che a terra, non c'è differenza, perché la piattaforma è solidale al terreno, sì, a parte questo pezzo qua, questo tratto, il quale viene superato con un apposito condotto, un tubo che percorre questa distanza, e quindi sostanzialmente non c'è differenza. La profondità d'acqua che potete affrontare con una piattaforma di questo genere sono alcune decine di metri, 50, 60, 70, comunque meno di 100, per ragioni meccaniche, perché se no, se aumentate tanto questa distanza qui, questa altezza, alla fine la piattaforma funziona come un pendolo rovescio, e quindi sopra, già così, quando si fanno determinate operazioni e una piattaforma sembra andare in barca, se fosse ancora più alto diventerebbe meccanicamente improponibile. Altri impianti sono i jack up, piattaforme che non sono in grado di navigare, vengono portate, lo vedete, con appositi rimorchiatori sul sito, una volta che è sul sito, queste gambe qua, questi tre tralicci, che sono poi le gambe della piattaforma, sono impegnati in questa zona qui, con delle cremagliere da parte di motori, si mettono in azione i motori, i motori fanno scendere le gambe, le gambe impattano il fondo e facendo funzionare ancora i motori, alzate la piattaforma dal livello del mare, qui naturalmente c'è uno studio quale sia l'altezza massima di onda attesa in quel tratto di mare, quindi ci si mette sopra la possibilità di ricevere ondate sul piano sonda. Questa qui ad esempio è una piattaforma nella posizione operativa, cioè deve avere anche un filmato che fa vedere queste cose, ecco qui questo è il jack down, le gambe impattano il fondo marino e continuando a far funzionare i motori, la piattaforma si alza e poi in questo caso la torre di perforazione è a sbalzo e la piattaforma è pronta per essere operativa. Il jack up ha di buono rispetto alle piattaforme fisse che una volta effettuate tutte le operazioni che dovete si fa l'operazione inversa, si fa il jack down, alzate le gambe, attaccate i rimorchiatori e l'impianto viene portato su un altro sito e può ricominciare a lavorare. Anche per il jack up c'è una connessione fisica precisa fra la piattaforma e il fondo e quindi la perforazione avviene di nuovo con le stesse modalità che a terra, non c'è differenza. La differenza invece c'è per piattaforme semisomorgibili e drilling ship. Per il jack up ecco mi scordavo di dire che qual è la potenzialità di profondità d'acqua, questa torre fate conto che sia alta una sessantina di metri, quindi vedete che le gambe potrebbero essere forse un centinaio di metri, però qualcosa vi mangia il fatto che la piattaforma deve stare comunque una decina di metri fuori dall'acqua, quindi la profondità d'acqua che potete affrontare è sempre inferiore ai cento metri. Se avete una profondità d'acqua maggiore entrano in campo le semisomorgibili. Semisomorgibili perché galleggiano, ci mancherebbe altro, ma anche qua, come è suggerito in questa immagine dalla distribuzione della vernice, queste gambone qua vengono riempite parzialmente di acqua di mare e per questo che si chiamano semisommergibili, vengono semisommerse, questo conferisce una grande inerzia alla piattaforma tutta e quindi una poca sensibilità al moto ondoso. E in più poi ci sono dei sistemi di posizionamento automatico collegati col GPS, la piattaforma dei thruster, cioè dei motori di controspinta e quindi come dati del GPS appena si sposta si accende il contromotore opportuno che la riporta nella posizione, insomma il posizionamento è sufficientemente preciso, la piattaforma sta abbastanza sul punto voluto, a meno che non ci sia un moto ondoso molto intenso allora bisogna andare in hang off, cioè si fa un'operazione di sgancio di quello che vedremo poi. Altra soluzione è la drilling ship, cioè una nave su cui è stata montata una torre di perforazione e si preferiscono le drilling ship quando dovete fare un lavoro più di esplorazione perché si può muovere agilmente con i propri mezzi da un sito all'altro, mentre le semisommergibili magari in situazioni un po' più definite in cui è già stato individuato un giacimento. In questi due casi, nelle semisommergibili e nei drilling ship, non c'è più un contatto preciso fra la piattaforma e il fondo, come succedeva per le piattaforme fisse o i jack up. E quindi tutto, diciamo, le valvole, i sistemi di sicurezza che servono per la funzionamento e per la sicurezza del pozzo, sono sul fondo del mare, mentre di solito sono sull'impianto, sulla piattaforma fissa o sul jack up, perché appunto hanno una connessione precisa, fisica, fissa con il fondo marino, in questo caso questa connessione non c'è e quindi tutto viene montato in fondo al mare, per esempio con dei sommozzatori di alta profondità o con dei battiscaffi, a volte anche telecomandati. E poi c'è una connessione morbida, chiamiamola così, fra il fondo del mare e la drilling ship o la semisommergibile, che viene effettuato con una condotta, che poi è un tubo, parlando in maniera un po' banale, che si chiama riser, mi sembra che qua da qualche parte ci sia, eccolo qua. Il riser assicura la tenuta idraulica, perché sennò il fango che risale da fondo foro andrebbe in mare perdendosi, questo naturalmente non vogliamo che accada. Il riser è un tubo di acciaio, ben inteso, ma comunque su una lunghezza notevole, perché qui potete avere fino a un 2000 metri d'acqua anche, su una lunghezza notevole il riser ha abbastanza elasticità da assorbire senza troppi problemi i movimenti della piattaforma della drilling ship. A meno che, ripeto, il moto ondoso non sia molto intenso, allora a quel punto lì bisogna sganciare il riser, si mette un galleggiante, poi quando le condizioni lo permettono si riaggancia e si continua la perforazione. Quindi questa è la vera differenza della perforazione a mare rispetto alla perforazione a terra. E viene usata, lo ripeto, quando avete una profondità d'acqua che non vi permette di usare i jack up o le piattaforme fisse. Adesso entriamo un po' più nel merito della fase di produzione. Quando avete finito la perforazione si fanno delle prove che fanno capire se ci sono idrocarburi, se ci sono di che qualità, se il pozzo è capace di erogare con che portate, con che pressioni, eccetera, eccetera, naturalmente comanda sempre il dollaro, quindi deve essere salva l'economicità dell'operazione. Quindi quando ci si è accertati che è l'operazione economica, allora si entra nella fase di completamento del pozzo, si scende un rivestimento, viene chiamato casing, che è poi un tubo di acciaio, eccoli qua, anche questi li vedete filettati, vengono avvitati gli uni sugli altri per tutta la lunghezza necessaria. Quindi il pozzo poi viene rivestito, non resta a foro scoperto e viene fissato alla roccia tramite un'operazione di cementazione. Si fa la tesa presa cemento e poi successivamente si fora il casing. La cosa è un po' curiosa, lo scendo intero ma poi con un opportuno attrezzo si effettuano una foratura del casing, naturalmente non dappertutto ma esattamente in corrispondenza dello strato roccioso della formazione che abbiamo capito è mineralizzato idrocarburi ed è capace di erogare idrocarburi. E poi quindi abbiamo messo in comunicazione idraulica la formazione, la roccia, con l'interno del pozzo, però non vogliamo che gli idrocarburi vadano proprio ovunque, li vogliamo convogliare in un tubo più piccolo, concentrico al casing, che viene chiamato tubing e per fare questo, per far sì che gli idrocarburi con il gioco delle pressioni entrino nel tubing e non vadano invece alle spalle del tubing, si monta un packer, eccolo qua, questo qua rosso, il packer è qualcosa di molto simile a questo aggeggio che conoscerete tutti, il tappo per l'acqua minerale, sapete che fate forza sulla leva, questa guarnizione qua si espande e fa tenuta nel collo della bottiglia dell'acqua minerale. Il packer funziona nella stessa maniera, anche se a scala molto più grossa, si fa una manovra in testa, queste gomme rosse si espandono, fanno tenuta sul casing, la differenza è che il packer è passante, cioè il tubing qua passa il packer e insomma alla fine riuscite a far sì che gli idrocarburi che vengono fuori dalla roccia si mettano solamente dentro a questo tubing qua e risalgono verso la superficie. In superficie cosa c'è? Beh, una volta che è finita la perforazione e tutte le operazioni che richiedono la presenza dalla torre, la torre di perforazione viene smontata e viene montato semplicemente a questo trabiccolo che è un insieme di valvole, di manometri, di strumenti di controllo del flusso degli idrocarburi, si chiama albero di Natale, Christmas tree. Alla fine a testa pozzo rimane soltanto l'albero di Natale. Qua avete un'altra immagine reale, è invece uno schema dove è mostrato che ci sono valvole, controvalvole, manometri e strumenti di controllo eccetera. Naturalmente è importante che questa roba qua funzioni, perché è quella che controlla il flusso degli idrocarburi, mi permette di fermarlo se c'è qualche problema e qualche imprevisto. C'è una normativa internazionale che si occupa di queste cose e che naturalmente è recepita dall'Italia, la quale anzi mi risulta che sia anche inasprita. Tutte queste robe qua devono essere sempre in doppio, qualche volta sono anche in triplo, quindi non è che ci sia una sola valvola che controlla il flusso di idrocarburi, ce ne sono come minimo due, spessissimo anche tre, in modo che se c'è un malfunzionamento, un incidente, c'è un backup che è capace di svolgere la stessa funzione. Siamo tornati a terra ma ritorniamo subito a mare, a mare che cosa succede? Beh, a mare dipende ancora una volta dalla profondità d'acqua, se la profondità d'acqua non è eccessiva allora si fa una piattaforma fissa, li vedete qua, vedete che queste piattaforme non hanno più la torre di perforazione, sono ancorate al fondo del mare e spessissimo funzionano da hub, cioè a un'unica piattaforma fissa, convergono magari 5, 6, 7, 8 pozzi con il loro prodotto di idrocarburi o fino a una dozzina e poi dalla piattaforma fissa ci può essere ad esempio un pipeline che porta gli idrocarburi a terra oppure possono essere anche svuotate periodicamente da una petroliera, ma le piattaforme fisse sono di solito a poca profondità d'acqua vuol dire non eccessiva distanza dalla costa e quindi è più probabile che si faccia una pipeline. Invece in grossa profondità d'acqua le piattaforme fisse non le potete più fare e allora gli alberi di Natale sono sul fondo del mare. Questo è un disegno che vuole con questo sfumo qua azzurrino, vuole dare l'idea di essere sotto la superficie del mare e questi qua sono gli alberi di Natale di diversi pozzi, anche qua si raccolgono i prodotti di diversi pozzi e si mandano per esempio a una piattaforma semisommergibile di produzione la quale a sua volta può avere una pipeline che va a terra oppure può essere svuotata periodicamente da una petroliera. Ok, questa qui è la fase che è più interessata dal referendum perché sostanzialmente, il referendum qualunque sia il suo esito, sostanzialmente non si parla di nuove perforazioni, si parla di pozzi che già sono stati perforati, già sono in erogazione, sono in produzione quindi il problema riguarda il fatto di produrre fino all'esaurimento del giacimento oppure no. Io con questo avrei finito.